. Io direi di fare l'esperimento in quel bar lì, quello notturno. Sì, spacciamola prima 10.000 lire a passo. Andate, andate. Come andate, andate? Un momento, andate, andate, così. Tocca a voi. In questa faccenda noi siamo consorti. Vabbé, facciamola conto a chi ci deve andare. Facciamola così. Per lui, eh. Per i pigiù. Per me, per me, per me, per me. Uno, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ma scusate, come avete contato voi? Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. No, no, no. C'è un errore. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Tocca a voi. Scusate. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ah, sentite, non mi fate arrabbiare. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Tocca a voi. Oh, sentite, per piacere, eh. Io nella vertenza mi elimino. Vabbè, non c'entra più. Tu vai fuori. Vabbè, e allora lo turco, lo turco, lo turco, lo turco, lo turco, lo turco. Allora, quattro. Uno, due, tre e quattro. Sentite, voi siete un bravo di bovina, ma come contatore non volete niente. Abbiate pazienza. Era quattro. Quattro. Uno, due, tre e quattro. Tocca a voi. Scusate, due, tre e quattro. Tocca a voi. Andate, abbiate pazienza. Tornandone, brighiamoci. Oh. Eh, io mi elimino. Abbiate pazienza. Ci capisce? Allora rimango in gara solo io. E su. Andate, andate, andate. Ricordatevi di spacciare il biglietto falso, non quello buono. Eh, no. Io a quello buono ci ho fatto una crocetta vicino. Non mi confondiremo. Andate. Andate. Eh, eh, l'avete chiamato? No, 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 andate. Non mi chiamate. Oh, ma chi mi chiami? Cinque nazionali esportazioni morbide per cortesia. Ecco. Ecco qui, cinque esportazioni morbide. E a me per i per favore. Tanti. Me le volete cambiare con più morbide perché... più morbide. Tre toscani. Più morbide. Ecco qui. Tre toscani. Queste sono morbide. Lei che vuole? Che vuole? Tre toscani. Mi ricresce, i toscani sono finiti. Beh, e allora mi dia una saponetta. Saponetta? Palmolive? Sì, Palmolive, va bene. Eccola. Palmolive. Grazie. Un momento. 10 mila. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ah, senta, lei. Ho trovato un sigaro toscano. Beh, non fa niente, grazie. E' meglio che non fumo. Buonasera. 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 Dei cerini, per favore.